Per noi il piano che è stato approvato dalla Giunta ieri, noi lo bocciamo completamente. Non usa mezzi termini la CGL Marche per commentare l'approvazione del piano socio-sanitario regionale 2023-2025. Le molteplici versioni del piano che sono circolate in questi mesi, sostengono i sindacati, evidenziano un metodo inadeguato per un confronto franco ed efficace nei nostri confronti. Il piano può risultare utile nella misura in cui sia capace di aggiornare in termini concreti la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale attraverso un percorso logico che definisca la situazione di partenza, individui i punti di approdo e che mette in evidenza modi, tempi e risorse per ridurre il gap. Non vengono affrontati quelle che sono le vere criticità e i nodi della sanità marchigiana perché un piano serve per fare il punto sulla situazione presente, sulle criticità e su quelle che sono le cose che si vorrebbero fare. Lì invece è un purpurri di provvedimenti che erano già presenti in altri atti che la Regione ha fatto, non da ultimo la legge 19 approvata ad agosto dell'anno scorso, ma anche l'ultima delibera regionale approvata a dicembre del 2022 sulla riforma territoriale. Quindi noi ci aspettavamo da quel piano qualcosa in più. CGL, Cisle e Wilmar che intendono mettere in evidenza alcuni elementi di carattere generale che necessiterebbero di approfondimento. Fra essi la prevenzione, la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza ospedaliera, senza dimenticare lo sviluppo del sistema delle cure domiciliari. Noi abbiamo nella provincia di Pesero tre punti nascita, quando in realtà sappiamo benissimo che, tanto i dati demografici, nascono bene i bambini e la popolazione si invecchia. È necessario andare a razionalizzare quella che è la rete ospedaliera e invece ampliare, consolidare e costruire a tutti gli effetti quella che è l'assistenza territoriale. Il necessario raccordo tra assistenza ospedaliera e territoriale, sostiene la CGL, richiede interventi decisi ed efficaci su almeno tre fronti. Il governo dei tempi di attesa per visite, prestazioni e ricoveri, l'attuazione effettiva delle linee guida regionali per la dimissione protetta e lo sviluppo diffuso dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Non sappiamo se il piano è stato portato in giunto, approvato in giunto, sia quello originale o quello che prevede anche le nostre integrazioni. Se così non fosse, non si escludono da parte nostra eventuali mobilitazioni perché il piano così non va incontro e non risolve quelle che sono le criticità vere che ogni giorno i cittadini marchigiani vivono.